Esatto, invece vedi che bestie ci troviamo. Abbiamo cambiato, abbiamo cambiato. Allora io ho chiamato te perché tu sei un coach di una squadra veramente che fa sognare, sta crescendo questa squadra, perché stiamo parlando della terza divisione femminile di volley e Sporting Out, insomma, non si capacita di quanto siete bravi, ma come funziona questa squadra? Ma è una squadra nata chiaramente l'anno scorso, quindi è un progetto che è iniziato da poco, da qualche mese, un progetto nato secondo me molto forte e un progetto che secondo me alla lunga può portare degli ottimi risultati perché sono ragazze straordinarie, una società francamente che io...